Benvenuti in questo nuovo video di Resident Evil 4 Io sono tanto disperata, anche stavolta Oh mio dio No 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 Sono veramente disperata Oddio speriamo bene, speriamo bene perché proprio non ne posso più Oh mio dio Uffa però che è sto coso Perché è qui Oh mio dio Perché? Perché? Poi che cosa sei? Un coccodrillo? Non ne ho idea No non posso schivare Ok Oddio nuota 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 Diavolo nuota Oh mio dio Sì sì Stai fermo un attimo eh Calmati Non c'è uno spray no? Ok Mangia Dove sei? Che fai? Ah ok Girati 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 Ah ok Però mi ha colpito ma che rottura Dai nuota 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 come se stesse inseguendo un enorme coccodrillo buttante O che caspita ne so come chiamarlo Non ho idea Cos'è? Cos'è davvero? Serve un coccodrillo però No Ma che ma è? Che senso ha colpirlo se poi ci butta giù? Oddio che brutta osile visuale Oh mio dio Nuota 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 La mia disperazione è tanta gente È tanta Mangia Ok dove sei? Dove sei? Dove sei? Ok Girati Bravo Che succede? Che Che fa? Oi Ok 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 c'è una freccia brutta La freccia non mi piace Gira Ok Ok Ui Ce l'ho fatta Sì Good work Leon Dovevo dirlo Oh il caccia No Che faccio? Che faccio? Che faccio? Ok taglia 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 Santo cielo Il cuore mi batte all'impazzata Oh mio dio Se avessi solamente qualcuno qui accanto a me Per darmi un po' di conforto Niente No No Leon Scusate Dovevo farlo Mi avrò spaccato i timpani Spero di no Mi sono un attimino Trattenuta Tranquilli Oddio Ok dai dai Si continua La partita 1 ora e 53 Oddio Mi sembra passata un'eternità a me Ho fatto la rima Ok Sto zitta Oh mio dio Oh mio dio Leon, ci sono sei giorni da la nostra ultima trasmissione, mi stia iniziato a riuscire. Non ti chiedi solito? In ogni modo, mi sono iniziato a sentire, e poi credo che mi ha perduto la conoscenza. Perduto la conoscenza? Potremmo che ha un'unica conoscenza a quello che aveva parlato della città della città. Oh mio Dio, Lino, che cosa ti hanno dato, ma vedetti. Oh, ok, lettera anonima. È il gigante, oh mio Dio, no, lui no. Dovrebbe essere Luis, o Ada, Ada Wong. Oh mio Dio, no, 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 no. Che sto facendo? Eh, ma mi abilità un attimino a distrarmi, perché davvero sono disperata con questo gioco. Sono davvero disperata. Oh mio Dio. Ah, ok, nulla di insolito. Ma sì, dai. E sta anche piovendo addirittura, ma che rottura. Vabbè, dai, noi andiamo. Ma prima, prima, sì, tanto... Faccio questa cosa e poi chiudo il video, perché tanto... 15 minuti passano in fretta. Devo andare lì. Ok, perfetto. Tantaratatan. Tanto quella creatura non c'è più. Ed è meglio così. Che pesce. Non so neanche però se posso prenderli. Boh. Non si poteva anche accelerare. No. Mi sembrava. Che diavolo fai? Ma scherzi? Ma scherzi? Oh cielo, no! Ma che diamine! Donna, vieni a reggirati. Cosa? Non mi fai davvero andare? Ma siamo seri? No, fermi tutti. No, se è uno scherzo... È veramente di cattivo gusto. Ah, ecco. Volevo ben dire, Dio. Ma che diavolo è successo? Poi mi metto io in questi casini. Mi ci metto io. Maledizione. Giuro, perderò la testa con questo gioco. Ci perdo davvero la testa. Poi c'è da fare qui qualcosina, da trovare un'arma. Forse un glitch. Credo, un glitch. Ma non mi ricordo. Teste munizioni, maledetto. Sì, ma a me aiuti, però. Sì. Non lo faccio neanche parlare, poverino. Non so, mi si è bloccato lì. Non lo so che è successo. Ah, sì. Thank you. Questa, ok. Sì. Non è troppo buffo. Ok, andiamo qui. Sì, mi sembra ci fosse un'arma, però non... Non sto qui a... No, no, ok. Non pensavo se fosse alzato dal pavimento, non lo so. Oddio. No, 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 ma perché dovevo immaginarmi le cose? Può spassare? Sì, ok. D'accordo. Tac, niente. Ah, ok. Questa è per la maschera. Ma poi... Più nulla. No, sì, ok, ok. Ok. Un attimo solo. Tanto il video lo chiederò a breve, quindi. Ok, sì. È carino. Ok, fatto. E poi... Sì, andiamo via. Ma davvero, ma cos'è successo prima? Io non ho parole. Non ho davvero parole, davvero. Nulla. No. Basta. Ancora non ho capito nemmeno cosa è successo. Ah, questa pioggia. Ma non ti prendi un raffreddore? Ah, a proposto. Ok, teniamo qua dentro. No. No, sì, non andiamo dentro. No, 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 no. Andiamo avanti. E... Concludo qui il video. Ciao a tutti!